Amici, Samu eliminato, nuova avventura in tour Beppe Fiorello, che gioia rivederti, bentornato. La scorsa puntata di Amici si è conclusa con l'eliminazione di Samu, Samuele Segreto. Il ballerino della squadra di Lorella Cuccarini e Di Manuello che ha perso il ballottaggio contro il cantante Wax. La sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi è giunta al capolinea, ma ora per Samu comincia una nuova avventura. Di cosa si tratta? Non tutti conoscono il passato di Samuele Segreto. Il ballerino di hip-hop, infatti. Negli anni ha fatto anche altre cose, anche nel mondo del cinema. Tra le pellicole a cui ha preso parte Samu c'è anche Stranizza da muri. Film diretto da Giuseppe Fiorello in cui Samu interpreta il protagonista della storia. Dopo l'eliminazione di Samu, Beppe Fiorello ha avuto modo di contattare il 18enne e congratularsi per la sua esperienza. Nonostante tutto, ad accompagnare lo scatto, l'attore ha scritto, che gioia rivederti Samu. Tu non puoi capire quanta gente ti sta applaudendo nei cinema. Ti porterò a farti ascoltare e vedere l'affetto che ti stanno riservando. Bentornato. Vi annunciamo che continueremo il tour dei cinema, nelle prossime tappe verrà con noi anche Samu a salutarvi nelle sale. Bentornato amico carissimo, sei stato grande ad amici, sei un talento e un ballerino pazzesco. Ora goditi anche il successo del tuo film e l'affetto del pubblico che lo sta amando. Ti vogliamo tanto bene. Ha concluso Beppe Fiorello annunciando pubblicamente di portare con sé in turni i cinema anche il protagonista e ballerino Samu. E beton după care il intind si el devine tare in timp, ca asa-i betonul. Underground, de 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul si acum rap-ul e moda onu. Asa-i, si zici ca stom ford, la cum ma comport, in treaba asta nu-i loc de comfort, record si-o mor tot. Sunt un crucisator, lansand rachete aerosol, inca de cand el era broke si se uza de aerosol. De cand avea mall, de cand nu stiai ce-i miscol, de cand ascultam gangsta rapper, baza pe pistol. Daca nu intelegi textul, suna pe Irina Nistor, va intalniți in tristor, la zero grade viscol. Nu tac nici stins mort, o sa mauzi prin sol, transpir hip-a prin pori, bile mari din tor. Ca stii ca dupa trimiti o canu mare, inspre cer si dau si Oscar-ul mare. Astrologia treaba ca... Astrologia treaba ca... Grazie a tutti